Il vino appresta i cuori e alla passione li fa più pronti, così scriveva il sulmonese Ovidio oltre 2000 anni fa. La tradizione vinicola abruzzese è antica e invidiata ma oggi trema davanti al coronavirus. Il settore del vino infatti in Abruzzo è uno dei maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria. A pesare sulla mancata vendita del vino, la chiusura forzata di alberghi, agriturismi, bar e ristoranti in Italia e all'estero, una dura prova per le oltre 18.000 aziende abruzzesi. L'Abruzzo produce ogni anno 4 milioni e mezzo di quintali di uva e oltre 3 milioni di ettolitri di vino. Nel 2019 l'export era cresciuto di oltre il 2% per un valore di quasi 200 milioni di euro ma ad oggi risultano cancellazioni degli ordini anche del 100%. I dati di Cantina Italia pubblicati settimanalmente dall'ICQRF mostrano con evidenza che il trend delle giacenze di cantina da un mese a questa parte deve destare allarme. A rischio il ciclo produttivo del vino se i viticoltori non riusciranno a far fronte alle spese. E' per questo che Coldiretti chiede misure urgenti tra cui emissione di liquidità sotto forma di prestiti a lunga scadenza a tasso zero garantiti dallo Stato. Come mai prima della nostra storia recente la vitivinicoltura abruzzese ha bisogno che il proprio assessorato gli tenda la mano. E' necessario pertanto un piano salvavigneti che permetta ai nostri agricoltori che continuano quotidianamente a lavorare alla produzione della prossima campagna ormai imminente di avere la garanzia di un reddito dignitoso. Tra le misure chieste da Coldiretti anche la vendemmia verde ovvero una sorta di freno ecosostenibile alla coltivazione intensiva così da evitare un eccesso dell'offerta e poi la distillazione volontaria col fine di produrre alcol disinfettante e per usi sanitari. Misure quali vendemmia verde o distillazione volontaria devono essere colte in quanto sono un'opportunità. Vanno indubbiamente riscritte le regole del gioco per evitare delle speculazioni e delle tensioni sui prezzi a ribasso che andrebbero a danneggiare una situazione già gravemente compromessa. Grazie. Grazie.